ciao a tutti oggi vi presento un nuovo prodotto della linea protettivi vmd nello specifico il nostro vmd 50 zinco scuro questo è un prodotto basato su resini acriliche pure additivate con solo polvere di zinco senza nessun altro tipo di metallo questo garantisce un'ottima protezione in esterno contro gli agenti atmosferici faccio vedere l'applicazione su due supporti metallici prima di tutto provvediamo ad utilizzare guanti di protezione e mascherina di protezione contro le polveri grazie a tutti l'ultima applicazione nel caso della latta vi fa capire l'alta coprenza del prodotto e inoltre la differenza di finitura che abbiamo rispetto ai nostro zinco brillante standard nel primo abbiamo una superficie ad alta coprenza di colore grigio scuro con un'alta protezione verso la ruggine gli agenti atmosferici mentre nel secondo nello zinco brillante abbiamo una finitura quasi a specchio di effetto notevolmente decorativo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti